Nel 105esimo anniversario della sua nascita si è tenuta al PAN, nel Palazzo delle Arti di Via De Mille a Napoli, la proiezione del documentario Confesso che mi sono divertito, 100 anni di una vita straordinaria. Lo short movie dedicato a Maurizio Valenzi che racchiude immagini e testimonianze allo scopo di ripercorrere un lungo periodo di storia di Napoli attraverso il ricordo dell'intensa vita pubblica e privata dell'ex sindaco. Hanno affollato i locali del museo che in questo periodo ospitano anche la Meari, su cui il giornalista Giancarlo Siani trovò la morte sotto i colpi della camorra, tanti tra familiari, collaboratori, politici e rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto semplici cittadini che hanno voluto portare il loro omaggio alla memoria dell'indimenticato primo cittadino. Il documentario è nato dalla collaborazione tra la provincia di Napoli e la Fondazione Valenzi ed è stato curato dalla redazione di Metronapoli Web TV. Il tributo intende ricordare la figura dell'ex parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 all'83, come uomo politico ed artista, ma anche narrare, senza settarismi di parte, un lungo periodo di storia e di politica italiana ed internazionale. Il video condensa in 30 minuti un discorso sulla città ed i suoi mutamenti sociali, culturali e politici, soprattutto per i più giovani attraverso il percorso di vita personale ed istituzionale di Valenzi con materiale inedito di interviste ad amici e studiosi. Oltre al ricordo del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, compaiono le interviste ai figli Lucia e Marco, ad Andrea Geremicca, Pietro Lezzi, al regista Maurizio Scaparro e a quanti accompagnarono in varie vesti il sindaco nel corso della sua lunga vita. A fare da narratore alle tante immagini inedite reperite dalla redazione attraverso le techerai e l'emeroteca Tucci è la voce dell'attore Mariano Rigillo. Al termine della proiezione si è svolto poi un dibattito moderato dal direttore di Metro Napoli Domenico Pennone, qui hanno preso parte tra gli altri l'assessore alla cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, che ha promosso l'iniziativa, il suo omologo alla provincia Francesco De Giovanni, l'ex sindaco e governatore della Campania Antonio Bassolino.